Tiziana Zanella e Antonio Gagliazzo, genitori di Nicolò. Perché avete iscritto vostro figlio Nicolò al centro di formazione professionale di Fonte? Perché il sogno del mio nostro figlio era di fare il meccanico auto, fin da bambino. E questa era la scuola ideale e l'abbiamo iscritto. Esatto. Era il suo desiderio. Ha sempre voluto la prima scuola che ha visto, è stata questa, e non ha cambiato idea, è rimasta della sua idea. E qui l'abbiamo portata. Siete contenti? Sì. Certo. Sì. Anzi. Perché lui è contento e anche noi lo siamo. Sta realizzando il suo sogno. Grazie. Prego. Prego.